Possono trasformarsi in qualcosa di positivo nella vita? Ecco, facciamo a blocchi la traduzione perché sennò diventa... Prego. I think ones of soul, it's not equivalent to depression. I think depression is a modern term. It's entered in our vocabulary in the 20th century. Because before this period, when we spoke of creativity, it is associated with melancholia. But melancholia is not exactly the depression as we conceptualize today. Diceva la professoressa che quello della depressione è un termine moderno, introdotto recentemente. Quando classicamente si parla dell'associazione, della creatività, ci si riferisce soprattutto alle preoccupazioni oppure alla melancholia, che è un quadro che non corrisponde completamente a quello che oggi chiamiamo la depressione. Mimma, berica.